Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale, potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. I suoi comportamenti sarebbero solo dettati da strategie. L'attore avrebbe progettato questo avvicinamento per puntarsi addosso i riflettori e ingraziarsi il pubblico, come gli ha mostrato Signorini in puntata. Mi sono avvicinato a Beatrice, ci siamo avvicinati, perché è una cosa partita da entrambi ed è tutto reciproco. Il nostro è un avvicinamento bello, sincero e fisiologico, ha negato lui. Eppure anche il suo amico Ciro Petrone ne aveva parlato proprio con lui, se lo fai succede un casino, fra. Cade la casa. Il protagonista di questa cosa. Ragazze al centro c'è Max. Se lui arriva fino alla fine, la porta a fare una cosa del genere e poi la molla e le dice punto mamma mia succede un casino veramente. Io non posso dirlo è una cosa pensata da lui. Non lo sto inventando è verissimo. Quando succederà direte a Massi che hai combinato. Non posso dire chi è l'altra persona coinvolta, le parole dell'extemptation Island. Ma anche gli utenti sono convinti che abbia un piano. E in queste ultime ore un altro episodio ha fatto dubitare parte del pubblico del GF. Siamo in suite, dove Massimiliano Varrese prosegue nello stuzzicare Beatrice. Comunque tu sei stuzzicatrice, Bea. E lei, che cosa vi devo dire? Ho perso tanto di quel tempo della mia vita. A un certo punto, sempre da Varrese, è scattata la domanda, tu sei una donna fedele? Le ha chiesto facendo allusione al fatto che adesso sta ritornando a frequentare Giuseppe e lasciando intendere che forse lui vorrebbe fare un ulteriore passo con lei. Oh, e lui ha concluso con buono a sapersi.